Buongiorno, ben trovati. Giovedì 26 novembre 2015, il nostro consigliato appuntamento con Mattino 6, la rassegna stampa che apriamo con il Santo del Giorno che viene venerato proprio nella giornata di oggi dalla Chiesa Cattolica, proprio il 26 novembre. Si tratta di San Bellino da Padova, la data di nascita è ignota, l'ascendenza genealogica non del tutto sicura e di recente sottoposta a nuova indagine da Antonio Tilatti, che ha scartato la precedente attribuzione di Bellino alla famiglia dei Bertaldi, individuandone il padre in un non altrimenti identificato audo. Prete almeno dal 1107, anno della sua prima menzione, Bellino è il primo tra i canonici destinatari di una donazione al capitolo della Cattedrale di Padova. Nel 1108 e l'anno successivo riveste la carica di arciprete della stessa cattedrale. Fin dalla sua prima apparizione figura al fianco di Sinibaldo, il vescovo di orientamento filopapale, contrapposto al candidato di obbedienza imperiale e costretto dalla violenza regia, cioè di Enrico V, ad abbandonare la sua sede. Bellino seguì con tutta probabilità Sinibaldo nel suo esilio, ma nel 1115 risulta nuovamente a Padova dopo una vita dedicata alla chiesa. Bellino morì quasi certamente a Padova il 26 novembre del 1147, data ricostruibile attraverso il necrologio di Santa Maria delle Carceri e dati documentari indiretti. Posteriore di più di un secolo, invece la vita di un San Bellino vescovo e martire attribuita al dominicano Bonaggiunta, vescovo di Adria. Dunque oggi viene venerato, ricordato dalla chiesa cattolica, San Bellino di Padova. Noi apriamo la nostra rassegna stampa andando a vedere le prime pagine del quotidiano Il Centro, le edizioni provinciali, poi passeremo al messaggero. Prima pagina del quotidiano Il Centro, edizione di Pescara, eccola qui, assolto l'ex sindaco di Nocciano, scagionato dopo sei anni, passò due mesi ai domiciliari. Questo è il titolo principale, la fotonotizia riguarda l'alberghiero, l'istituto di Pescara, nuovo rinvio dei lavori, laboratori pronti a gennaio. Poi le cronache, siamo alla vicenda della Carichietti, si riparte, stop ai pericoli, parla il nuovo amministratore delegato in Mordino. Poi la protesta a penne e spiraglio, però, per salvare il punto nascita. E poi questo titolo, che riguarda la giornata contro la violenza sulle donne, che è stata festeggiata, ricordata proprio nella giornata di ieri, libera dopo 20 anni di botte, c'è questa testimonianza importante di questa donna che è riuscita a ribellarsi a 20 anni di soprusi. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara, per andare a vedere tra qualche istante l'edizione del centro di Chieti-Lanciano-Basto. Vedremo anche in questo caso quali sono i titoli principali che sono presi in esame proprio nella prima pagina dell'edizione teatina del centro, che affronta ovviamente la vicenda Carichietti. Carichietti è pronta a ripartire, abbiamo visto anche nell'altro titolo. Parla in Mordino, nuovo amministratore delegato, ma Credit Fidi annuncia la prima causa. E poi parlavamo ieri della giornata contro la violenza sulle donne. 700 studenti in Piazza Vico a Chieti per dire no al femminicidio. E poi le cronache, pista ciclabile, inchiesta sui soldi spesi, c'è questa indagine della Corte dei Conti, siamo a Basto. Poi a Chieti, distrutta al palatricale, al palatricale, la pedana delle ginnaste. E poi a Lanciano taglia il trasporto dei malati, la ASL lascia i pazienti oncologici senza il servizio. Andiamo a vedere ora l'edizione del centro di Teramo, poi chiuderemo con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Poi andremo a vedere anche la prima pagina, anzi le prime pagine dei quotidiani nazionali attraverso il sito del Ministero degli Interni. Allora, il centro edizione di Teramo, bancaria scomparsa da tre giorni. L'appello del marito su Facebook, vi prego aiutatemi a ritrovarla. Dunque, mistero sulla scomparsa di questa donna e c'è l'appello del marito. E poi, vedete la fotonotizia, Venturoni, basta con la politica, farò il contadino del nonno. Parla l'ex assessore dopo l'assoluzione. E poi a Giulianova, nelle cronache, il PD concede fiducia limitata al sindaco Mastromauro. A Teramo, in centro storico, i negozianti via Capuani-Pedonale chiedono dunque che venga pedonalizzata questa arteria. E poi la madre morì sola, condannati due fratelli giudicati colpevoli di non essersi presi. Cura, direi, ancora da Teramo questa notizia. Noi chiudiamo, come dicevamo, con l'edizione, la prima pagina dell'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona del centro. Andremo a vedere tra qualche istante qual è il titolo principale, il titolo che apre proprio l'edizione dell'Aquila, Avezzano e Sulmona del centro. Ecco qui il titolo. L'autoblu di Pangrazio, processo Avezzano, sindaco Niguai, per i viaggi come dirigente della provincia. E poi questa storia che riguarda un Sulmonese, fa fortuna in America e sogna un casino. E lo stadio nella sua terra. Poi all'Aquila, malora in auto, addio al politico Tonino Padovani, abbiamo proposto anche il servizio su questa vicenda triste, accaduta proprio all'Aquila. Sempre all'Aquila, arresti scaduti, riga e mancini, tornano liberi. E poi ancora dall'Aquila, una notizia che riguarda la cronaca, in questo caso cocaina, quattro arresti, droga acquistata a Roma e ceduta a 30 giovani. Lasciamo le prime pagine del quotidiano, le centro delle quattro edizioni. Andiamo a vedere la prima pagina del messaggero, poi vedremo i titoli delle prime pagine dei quotidiani nazionali più importanti. Allora messaggero, si parla ovviamente della guerra all'Isis, mossa Merkel, truppe anti-Isis, la cancelliera in aiuto di Hollande, il terrore non si batte a parole. Poi minaccia il Papa, pista somala, la povertà porta terrorismo, è iniziata la visita in Centroafrica del Pontefice. E poi questa notizia che arriva da Roma riguarda il decoro della capitale, la stretta del commissario Tronc, al bando Centurioni e Rischò. Roma si riprende la sua storia. Questi titoli principali che arrivano dal quotidiano Il Messaggero. Come vi dicevo andiamo a vedere invece le prime pagine dei più importanti quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, ecco qui il titolo del quotidiano di Milano. Merkel decide soldati tedeschi inviati in Mali, oggi Renzi, da Hollande per l'aiuto dell'Italia. Dunque guerra all'Isis senza risparmiarsi, anche la mossa della cancelliera Merkel ovviamente è importante alla luce proprio di quanto accaduto nei giorni scorsi. Andiamo avanti, prima pagina di Repubblica, Hollande-Merkel, asse contro l'Isis, caccia a dieci giadaisti in Europa. E poi vedete la foto di centropagina, il Papa in Kenya senza autoblindate, il terrorismo cresce nella povertà. E poi c'è questa notizia che riguarda proprio Repubblica perché cambia il direttore il 14 gennaio. Dopo 20 anni Ezio Mauro lascia la direzione del quotidiano della Repubblica, arriva Calabresi che attualmente è alla stampa di Torino. È proprio la stampa che andiamo a vedere nella prima pagina. Missili e sanzioni contro Ankara. Prosegue la guerra a distanza tra Turchia e Russia dopo l'abbattimento di un jet russo. E poi una notizia che riguarda un altro argomento, ultimi test per la missione Exo Maris dell'ESA per un terzo tricolore, l'Italia verso Marte per cercare la vita. E poi ieri, giornata della violenza contro le donne, ancora un femminicidio ammazzato a fucilate dal marito è accaduto a Perugia. Proseguiamo la prima pagina del Sole 24 ore, Russia-Turchia a rischio scambi per 44 miliardi. Torniamo a parlare di questa guerra a distanza dopo l'abbattimento del jet russo. Poi vedete la foto, il Papa in Kenya, terrorismo nasce da povertà, detto il Pontefice ieri nel suo discorso. E poi un titolo che riguarda l'economia, tra l'altro visto che parliamo del più importante quotidiano economico, il Sole 24 ore, euro ai minimi da sette mesi, borse in rialzo, Milano più 1,9%. Lasciamo il Sole 24 ore, abbiamo già visto i titoli del messaggero prima, ricordiamo questo principale, Mossa Merkel, truppe anti-ISIS, dunque pronte ad essere schierate dalla cancelliera tedesca. Proseguiamo, siamo al quotidiano, il giornale, il salvataggio delle banche, lo pagano i clienti. Dunque anche il giornale parla di quello che è accaduto nei giorni scorsi, che ha riguardato, come abbiamo visto, anche Banca Carichietti. Il valore dei bond degli istituti salvati è stato azzerato, panico tra gli obbligazionisti. E poi media e politica, via Ezio Mauro arriva a Calabresi Junior e soffri, lascia Repubblica. Abbiamo visto anche proprio da Repubblica la notizia del cambio alla direzione. Poi alleanza antiterrore nel caos, Putin attacca Erdogan, Hollande attacca Merkel, la guerra è tutti contro tutti, scrive il giornale. Proseguiamo, altro quotidiano di area centrodestra, siamo a Libero, l'Italia finanzia l'ISIS con i soldi dei bambini, questo è il titolo principale di Libero. Anche qui si parla dell'avvicendamento alla direzione di Repubblica, via Ezio Mauro arriva a Calabresi. E poi questa notizia che arriva da Milano, ha ucciso un bandito, non è indagato per poterti difendere, devi prima farti sparare. Questo signore milanese si è trovato in casa ai ladri, ha sparato, uno dei malviventi è morto, ma non è stato indagato perché è stata riconosciuta la legittima difesa. Siamo al quotidiano Il Foglio, il terrorismo e ideologia non povertà, torniamo a parlare di quello che sta accadendo e della lotta all'ISIS. C'è questo articolo del Foglio e poi sopra anche Il Foglio, come tutti i quotidiani, parla dell'avvicendamento alla direzione di Repubblica. Dopo 20 anni lascia il direttore Ezio Mauro. Siamo al quotidiano Il Tempo di Roma, vedete il titolo a tutta pagina del quotidiano Il Tempo. Copri fuoco, l'incubo attentati, lascia a casa i romani e affossa l'economia, cinema, teatri e ristoranti. Calo di presenze fino al 50% e poi il Papa in Africa si oppaura delle zanzare e dunque il pontefice tranquillo, nonostante tutto quello che sta accadendo in diverse parti del mondo. E anche sul tempo, vedete in basso, arriva Calabresi e Sofri se ne va, il figlio del commissario direttore del giornale, dove collaborava. L'ex lotta continua. Andiamo ancora avanti. Il mattino di Napoli, Turchia, Putin schiera i missili, Hollanda, la Merkel, sull'Isis fate di più e la Germania invia i soldati in Mali. E poi si parla anche di un sondaggio sulle prossime amministrative, in questo caso in Campania a Napoli, il popolo del PD primarie senza veti. Quindi proseguiamo, siamo al quotidiano della CEI, avvenire, il terrore si nutre di povertà e paura. Ovviamente il titolo principale riguarda la visita del pontefice in Centrafrica, in Kenya, in questo caso rischi, temo più le zanzare, abbiamo visto anche dagli altri quotidiani. E poi un altro titolo che riguarda la lotta all'Isis, il presidente della Repubblica Mattarella dice, uniti davvero truppe tedesche in Mali. Proseguiamo, siamo al quotidiano, l'unità, io non ho paura, in questo caso il titolo a tutta pagina, l'unico titolo della prima pagina dell'unità riguarda proprio la visita del Papa in Centroafrica, Papa Francesco in Africa. Col sorriso e senza auto blindata, attentati, temo solo le zanzare, ha detto il pontefice. Siamo al quotidiano Il Manifesto, tensione Russia-Turchia, Merkel si arruola in Mali e vedete anche qui c'è un titolo che riguarda la tensione Russia-Turchia ma anche la lotta all'Isis. E poi il titolo che riguarda la visita del Papa in Centroafrica, il Papa Nero, la povertà alimenta il terrorismo, ha detto il pontefice nella sua visita. E chiudiamo con il Fatto Quotidiano, l'ultimo giornale che andiamo ad esaminare nella sua prima pagina. Si parla in questo caso di consulta, Supernazzareno, K.O., sconfitti, Mattarella, Renzi e Berlusconi. Fine inciucio, scrive il Fatto Quotidiano, volevano mandare alla Corte gli avvocati di Berlusconi e Schifani. Poi in alto vedete altri titoli, scontrini, premier archiviato, ora può renderli pubblici, poi accertamenti fiscali, la finanza a casa di Vespa. E poi vedete anche qui sul Fatto Quotidiano, la Terza Repubblica, via Mauro e Sofri arriva Mario Calabresi. Infine la guerra nascosta fra turchi e russi, quella del gasdotto. Lasciamo dunque il sito del Ministero degli Interni con i titoli che abbiamo visto di tutti i principali quotidiani italiani. Torniamo ai giornali di casa nostra velocemente per andare a vedere qualche pagina interna di cronaca nazionale del Messaggero e del Centro, prima del meteo con il nostro Giovanni De Palma. Vedete Messaggero, Bergoglio in Africa, il terrorismo nasce dalla povertà. E poi Merkel in aiuto di Hollande, militari tedeschi nel Mali. Poi Turchia, Russia, Putin schiera i missili. In Siria dunque c'è anche il problema Siria perché ci sono paesi che appoggiano Assad e altri che invece sono fermamente contrari proprio al presidente siriano. Andando avanti Parigi, anche Abrini è passato per la Siria e lui l'artificiere. Continuano le indagini per risalire agli attentatori che la settimana scorsa hanno seminato il panico nella Capitane Transalpina. Poi Mattarella, il presidente della Repubblica, contro il terrore, errore, sbarrare le frontiere. E poi si parla di giubileo, anche i fondi degli esodati per finanziare il giubileo che partirà, ricordiamo, l'8 dicembre. Consulta, i franchi tiratori affossano l'intesa, abbiamo visto anche dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere questo sommario. Ennestima fumata nera, nonostante il patto PD, Forza Italia e Alleanza Popolare, Barbera, Sisto e Pitruzzella lontani dal quorum. Ma restano loro i candidati. L'ira del Premier e Bersani dice non avete coinvolto davvero il Movimento 5 Stelle. E poi Casso De Luca, la giudice doveva astenersi, c'è questo documento che riguarda la vicenda De Luca. Poi due pagine dedicate al giorno della violenza contro le donne, nuovo delitto a Perugia, abbiamo visto anche dagli altri quotidiani, lei era un avvocato. L'altro ucciso era un ergastolano evaso. Torniamo alla vicenda di Milano, il rapinatore morto sotto i colpi del commerciante che teneva in ostaggio con la famiglia nel milanese, caccia ai due complici. Il gioielliere dice volevo proteggere la mia famiglia, ci volevano massacrare, grazie a Dio. Avevo l'arma, c'è anche l'intervista, la testimonianza di questa persona. E poi mafia capitale, Buzzi, sono stato minacciato, ma parlerò lo stesso. Parla uno dei principali, delle persone coinvolte in questa vicenda. Il RAS delle COP contraattacca, battaglia in aula sui testimoni, la Cassazione dice sospetti i soldi alla fondazione di Alemanno. Siamo alle pagine dell'economia, sconti fiscali in un anno 15 miliardi in più, poi Volkswagen via libera gli interventi sui motori. E infine mercato immobiliare, vendite su del 6%. Passiamo alle pagine di cronaca nazionale del messaggero, lo faremo tra qualche istante. E intanto stiamo per concentrarci ovviamente anche sul meteo, perché in arrivo il maltempo. Già questa mattina pioggia in molte zone della nostra regione. Venti di guerra, jet russo abbattuto, Mosca schiera i missili. E poi Bruxelles riapre i battenti e caccia 10 terroristi, ma ancora attenzione, sia in Francia che in Belgio. Poi terrorismo, appunto la politica, Padoan, i fondi dell'Unione Europea per Sicurezza e Cultura legati agli ok a Bruxelles. E poi la chiesa di Francesco, il Papa in Africa, povertà alimenta il terrorismo. L'ultima pagina di cronaca nazionale, accecato dalla gelosia, uccide la moglie. A colpi di doppietta è accaduto a Perugia, proprio ieri nella giornata della violenza contro le donne. Poi Repubblica, Mauro lascia la direzione, arriva Calabresi. Abbiamo il tempo per vedere un paio di pagine di cronaca regionale. Partiamo proprio dal centro. Parla il nuovo amministratore delegato della Carichietti in Mordino. Carichietti di parte, sminato il pericolo, dice l'amministratore delegato in questa lunga intervista sul quotidiano Il Centro. E poi ancora cronaca regionale. Corretto il parco della costa, ora i comuni dicono sì. Poi si parla della scissione all'interno di Abruzzo Civico. Borrelli contro Sottanelli, dice, tradisce Abruzzo Civico. Ieri c'è stata questa conferenza stampa. Dopo il meteo vi proporremo un servizio proprio su questa vicenda, su questa polemica tutta interna ad Abruzzo Civico. Andiamo ancora avanti. Sono terminate le pagine di cronaca abruzzese del centro. Vediamo anche il messaggero. Prima di parlare, come detto, di meteo con il nostro Giovanni De Palma, dicevamo pagine di cronaca abruzzese. Vediamo la prima, in questo caso Pagano e Di Pangrazio a processo. Ecco il titolo. Rimborsopoli in regione, l'ex presidente del Consiglio sarà imputato a Rimini per peculato. Utilizzo improprio dell'autoblu alla provincia dell'Aquila, il sindaco di Avezzano alla sbarra. E poi Bond Carichieti, confartigionato, lancia una class action. E poi vedete questa fotonotizia. Cyber Security, il colosso mondiale di Chieti. C'è questo reportage del messaggero. E poi vedete il ritorno proprio a questa vicenda. Cyber Security, il centro mondiale della porta accanto. Poi in basso, agenti ovunque controlli, la pallanuoto blindata di Italia-Francia. Avezzano, c'è stata questa gara di pallanuoto femminile. E rigorose misure di sicurezza proprio per la presenza della nazionale transalpina. Sono le 7.20. Abbiamo dunque, con una puntualità quasi svizzera, possiamo aprire la pagina del meteo con il nostro meteorologo Giovanni De Palma che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, il maltempo è arrivato. Ha fatto capolino nella nostra regione già da ieri sera, dalla scorsa notte. Comunque piove in diverse zone della regione. C'è stato un abbassamento delle temperature. Ci avevi avvisato per tempo, è il caso di dire, è situazione che, se non mi sbaglio, dovrebbe anche peggiorare nelle prossime ore. Esattamente Paolo, perché siamo interessati da una intensa perturbazione d'origine nord-atlantica, sospinta da masse d'aria fredda di origine polare, che sta dando luogo alla formazione, all'approfondimento di un minimo depressionario proprio sulle regioni centro-meridionali. E la posizione del minimo è a noi molto sfavorevole, Paolo, perché favorirà non solo piogge diffuse, intense e persistenti nel corso della giornata, tra oggi e domani in particolar modo, ma determinerà anche un deciso rinforzo dei venti di bora con probabili mareggiate lungo la fascia costiera. Quindi una situazione di maltempo, si tratta di un peggioramento, uno dei più insidiosi della nostra regione in termini di precipitazioni intense e persistenti, perché se adesso le precipitazioni sono ancora deboli o tutt'al più moderate, dal pomeriggio sembra probabile un'ulteriore intensificazione dei fenomeni, in particolar modo sul settore centro-orientale della nostra regione, almeno fino alle prime ore della giornata di domani, Paolo. Quindi una situazione di intenso maltempo con delle nevicate che saranno copiose sui nostri rilievi a partire dai 1.000-1.200 metri, ma localmente, date le basse temperature previste, non si esclude qualche nevicate anche al di sotto dei 1.000 metri, a quote lievemente inferiori, Paolo. Quindi maltempo almeno fino alla serata di venerdì, poi gradualmente assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, perché la figura depressionaria abbandonerà gradualmente la nostra penisola e favorirà delle schiarite. Schiarite, soprattutto nel corso delle fine settimana, anche se non mancheranno degli annuvolamenti, ma certo è che il maltempo si attenerà e si sposterà decisamente verso la Grecia e successivamente verso la Turchia. Quindi una situazione, ancora 24-48 ore di tempo perturbato sulla nostra regione. Poi c'è anche un'altra buona notizia da dare, che riguarda la prossima settimana, perché alla luce dei dati attuali a nostra disposizione sembra probabile il ritorno dell'alta pressione sulla nostra penisola, sul bacino del Mediterraneo e sulla nostra penisola, alta pressione che se confermata favorirà un nuovo aumento delle temperature e tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, Paolo. Giovanni, la buona notizia di questo maltempo, se così vogliamo dire, riguarda l'arrivo della neve che farà felice tutti gli appassionati degli sporti invernali, perché se così fosse potrebbe tra qualche giorno partire la stagione invernale nella nostra regione. Esattamente, Paolo, esattamente perché calderà tanta neve sui nostri lievi, sono previste copiose nevicate a partire dalle prossime ore, ma ripeto, la fase più intensa di questa ondata di maltempo è prevista tra il pomeriggio sera di oggi e la prima parte della giornata di domani, quindi in questa fase avremo non solo piogge diffuse e persistenti localmente anche a carattere temporalesco sul settore centro-orientale della nostra regione, ma ci saranno delle copiose nevicate al di sopra dei 1.000-1.200 metri, ripeto, localmente anche a quote levemente inferiori, ma le precipitazioni più intense, le nevicate più copiose interesseranno i rilievi a partire dai 1.000-1.200 metri e questa è una buona notizia, non solo per gli appassionati, ma anche per gli operatori turistici del settore, Paolo. Bene, grazie, grazie a Giovanni De Palma, grazie per questi aggiornamenti, buona giornata, buon lavoro, l'appuntamento ovviamente con te per domani nel corso di mattino 6, grazie Giovanni, buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata a te e a tutti i telespettatori di TV6. Restare aggiornati proprio sull'evoluzione del tempo, come abbiamo ascoltato, tempo in peggioramento, dunque prudenza a chi si sposterà nella nostra regione, potete seguire tutti gli aggiornamenti proprio sul sito abruzzometeo.org diretto dal nostro Giovanni De Palma e anche consultare la pagina Facebook del social network per restare sempre aggiornati e per avere anche un colloquio diretto con il nostro meteorologo, dunque per sapere e conoscere l'evoluzione della situazione del tempo nelle prossime ore nella nostra regione. Noi torniamo ai nostri quotidiani, vi dicevo, siamo alla pagina regionale del centro, vi dicevo di questa conferenza stampa che si è tenuta ieri a Pescara, Abruzzo Civico, Borrelli contro Sottanelli, questo è il titolo. Andiamo a vedere nel servizio di Francesca Romanatesti cosa è accaduto. Abruzzo Civico parte seconda. Se dopo più di un anno di governo e dopo una rivendicazione che tanto aveva creato scompigli in regione avevano ottenuto una poltrona, vedi spostamento di Mario Mazzocca nel luoro di sottosegretario al posto di Camillo D'Alessandro, ormai consigliere con delega. Oggi Giulio Borrelli annuncia una nuova fase, si tratta di una spaccatura rivolta all'antipolitica, nel dettaglio di chi fa accordi che nulla hanno a che fare con il civismo. Attualmente noi riteniamo che l'Abruzzo marci a due velocità molto distinte, l'area metropolitana che sta qua attorno e tutto il resto dell'Abruzzo che marcia a una certa velocità sostenuta, diciamo che va oltre 100 all'ora e il resto che marciano a scattamento ridotto. In questa nuova fase faremo a meno di scelta civica che è una delle componenti originarie di Abruzzo Civico che sta dando vita legittimamente a un suo progetto nazionale che però non ci appartiene e nel quale non ci riconosciamo. Le associazioni che direttamente o indirettamente fanno capo a questo partito nazionale hanno convocato per domani davanti al notaio un'assemblea di amici fondatori per stravolgere, noi riteniamo lo statuto, nominare persone a loro vicine negli organismi dirigenti e cercare di assoggettare Abruzzo Civico alla scelta di quel partito. A fare nomi e cognomi poi ci pensa Andrea Gerosolimo che spiega come scelta civica si sia distaccata dal loro ideale. Noi rispettiamo la scelta fatta dall'onorevole Sottanelli ma naturalmente non era più possibile proseguire l'attività del movimento civico da una parte inneggiando al civismo nella nostra regione e dall'altra costituendo a Roma ma con evidenti ricadute sul territorio il movimento che di fatto è costituito dal sottosegretario di cui io neanche ricordo il nome di Grave, Zanetti, credo che si chiami cittadini italiani e questo percorso su due binari non era più possibile. Partirò una fase nella quale l'appello è rivolto a tutti quei cittadini, forze sociali e culturali purché pronti a risvegliare energie positive soprattutto da parte di chi non si riconosce nei partiti e desidera proporsi in prima persona per il bene comune. Questa è la conferenza stampa di Abruzzo Civico, noi ci fermiamo per qualche istante e torneremo poi in studio per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, siamo alle pagine provinciali dei nostri quotidiani, partiamo dal centro, cronaca di Pescara, assolto anche l'ex sindaco di Nociano, questo è il titolo principale, cadono tutte le accuse contro Giordano e altri quattro imputati sei anni fa, finì per due mesi agli arresti domiciliari e poi Venturoni e dizio assolti, ma Teramo non li scaggiona. E siamo alla pagina sulla violenza sulle donne, ieri la giornata contro la violenza sulle donne e così mi sono liberata dopo vent'anni di botte, questa testimonianza di Giovanna, 38 anni che ha spedito il compagno in carcere, dice l'ho fatto per le figlie, poi anche in un anno l'associazione ha contato 483 richieste di aiuto. Andiamo avanti, la protesta degli studenti alberghiero, slittano i lavori nei laboratori, alle promesse non seguono i fatti, dicono i genitori dei ragazzi e poi il liceo artistico Misticoni e al Misticoni ricreazione in aula e niente bagno. Proseguiamo, show e luminari in centro, sconti per negozi e stadio, domenica il primo degli eventi natalizi organizzati da 300 commercianti, agevolazioni per chi arriva con il treno, un concorso fotografico per i bimbi tifosi, questa iniziativa organizzata dal comune di Pescara in collaborazione con la Pescara Calcio, giocatori che saranno in centro per salutare i tifosi, firmare autografi e fare foto. La sovrintendenza ha mai ricevuto progetti sul nuovo stadio, i beni architettonici potrebbero apporre vincoli all'impianto che rischia la demolizione. Diodati, assessore allo sport, dice rapporti interrotti da mesi e poi sgombero notturno per i senza tetto, operazione della Polfer alla stazione di Pescara. E poi ancora cronaca, il ladro d'auto si difende, sparatoria in seguimento a Montesilvano, oggi l'interrogatorio dell'arrestato. E poi la Cucarini inaugura oggi la palestra per i bimbi operati nella casa famiglia 30 ore. E a proposito di solidarietà, ieri inaugurazione all'ospedale chirurgia pediatrica con una nuova sala operatoria. Questa importante iniziativa che abbiamo seguito nel servizio di Elisa Leuzzo. All'interno dell'unità operativa di chirurgia pediatrica dell'AUS di Pescara è stata inaugurata la sala Manes. Si tratta di una sala operatoria, donata dalla fondazione Ada Manes, destinata agli interventi di chirurgia ambulatoriale. Uno spazio che consente procedure più snelle per i piccoli interventi, riducendo così i tempi di attesa per bambini e le loro famiglie. Noi abbiamo un dramma che è la carenza di sedute operatorie. Ovviamente questa sala operatoria che comunque ha tutti gli effetti non grande ma ben attrezzata ci dovrebbe permettere di decongestionare in parte, speriamo in buona parte, inizialmente saremo molto prudenti nelle indicazioni, per interventi che non necessitino di anestesia generale. L'obiettivo della fondazione Ada Manes è proprio quello di facilitare le terapie chirurgiche rivolte ai pazienti più piccoli di ogni luogo e provenienza sociale, sostenendo sia il miglioramento delle strutture dedicate nelle città di Pescara e in Italia, sia nei paesi in via di sviluppo. Le prime risorse ovviamente sono state dedicate alla chirurgia pediatrica di Pescara, ma in questo anno abbiamo già anche partecipato a due missioni di chirurgia pediatrica in Etiopia, nella regione del Tigrai, dove in due missioni ognuna di 15 giorni noi abbiamo operato più di 100 bambini, ne abbiamo visitati più di 300. La prossima missione parte a dicembre e speriamo di continuare con progetti efficaci. La società civile deve partecipare e contribuire con le istituzioni a rendere le strutture destinate al pubblico quanto più efficaci e lì dove il pubblico non arriva e non dimentichiamo che siamo in tempi di tagli alla sanità, lì dove il pubblico non arriva, ecco le associazioni, le fondazioni, eccetera, è bene che facciano il loro. La donazione della nuova sala operatoria, reparto di chirurgia pediatrica di Pescara, del valore di 30.000 euro, è stata resa possibile grazie anche al contributo di donors organizzati dal milianico Golf Club. Andiamo avanti, pagina di Montesilvano del centro, dopo anni, due anni dopo al Silone tornano le porte dei bagni, dopo le proteste dei genitori il comune incarica una ditta di effettuare i lavori, l'assessore sono state scardinate da studenti, qualcuno non ha vigilato e poi mercatino di Natale in centro dal 6 dicembre all'Epifania, sempre a Montesilvano e via le iniziative di Natale anche nell'outlet di Città Sant'Angelo Solidarietà, gli alunni regalano i loro giocattoli, raccolta della Croce Rossa nelle scuole per i bimbi meno fortunati a Città Sant'Angelo, incontro fra imprese meccaniche. Proseguiamo ancora la pagina dell'area metropolitana di Pescara, siamo a Francavilla, in questo caso il sogno di Luciani, il sindaco dice spostiamo i binari dopo gli attenuatori di rumore sulla ferrovia, il sindaco rilancia la sua idea, tutto dipende dall'alta velocità, spie luminose antiallagamento nel sottopasso di Via Pola, sempre a Francavilla e restando nella cittadina adriatica, Mumi, spettacolo di flamenco, ricordando il dottor Angeloni e poi c'è l'appello del consigliere Di Renzo, la città di Canò ad Ombrina Mare, infine Manopello, cantiere abbandonato all'abbazia, i lavori a Santa Maria Rabona dovevano finire nell'agosto del 2014. E poi siamo alla pagina di Penne, Popoli e l'Alta Val Pescara, Penne in questo caso, le proteste per la sanità, uno spiraglio però per il punto nascite e poi sempre nel centro vestino, lo scuolabus perde una gomma, si allentano i bulloni ed il pulmino è costretto a fermarsi in strada. Proseguiamo, siamo alla pagina di Chieti del quotidiano Il Centro, condannato a quattro anni per sette furti, Cupido aiutato da due complici, sfondava le vetrine dei negozi con mazze e sassi, portando via soldi e merce di ogni tipo, arrestato a gennaio a Lanciano, incastrato dalle telecamere. Pedana delle ginnaste distrutta, Chieti le danze caraibiche rovinano lo speciale tappeto delle atlete dell'armonia di Chieti e poi la sanità, vedete a fondo pagina, malati di tumore, l'ASL taglia il trasporto, Lanciano in questo caso dunque siamo nella zona frentana, pazienti rimasti senza servizio, non possono raggiungere Chieti e Campobasso per le terapie. Siamo alla pagina dell'Aquila del Centro, in questo caso siamo a parlare di questa inchiesta, Autoblu di Pangrazio va a processo, il sindaco di Avezzano imputato nelle vesti di dirigente della provincia per un uso spregiudicato dei mezzi dell'ente. E poi l'Aquila, Tangenti, Riga e Mancini sono tornati in libertà. Poi una notizia di cronaca che arriva sempre dal capoluogo aquilano, cocaina e ascisce per i giovani, quattro arresti, l'Aquila e il PM contesta 150 cessioni ad una trentina di persone, lo stupefacente arrivava da Roma. E poi la cronaca che arriva da Teramo, il caso dell'impiegata di banca scomparsa da lunedì, segnalazione anche a chi l'ha visto, la donna di 54 anni è uscita in auto e non è più tornata a casa, appello del marito su Facebook, aiutatemi a trovarla. E ieri a chi l'ha visto è tornato a parlare il padre di Giulia, qualcuno ha abusato di lei, ricorderete questa povera ragazza trovata priva di vita e con il corpo martoriato sulla carreggiata dell'autostrada A14 all'altezza di Tortoreto. Lasciamo le pagine provinciali dal quotidiano Il Centro, andiamo a vedere sempre la cronaca dalle nostre quattro province sul quotidiano Il Messaggero, poi passeremo alla città di Teramo e chiuderemo ovviamente come sempre con la cronaca sportiva, con lo sport, per parlare anche degli appuntamenti che sono previsti nel fine settimana. Vi ricordo che il Pescara a proposito di sport, di calcio, di serie B, anticiperà domani sera alle ore 21 al Dino Manuzzi, dice Sena, questa importante sfida di campionato con i Romagnoli. Allora, partiamo dal Messaggero, inserto Abruzzo, cronaca dell'Aquila, fiume di droga sulla 24, quattro arresti, stroncato un grosso traffico con Roma, cocaina e hashish venivano acquistati nella capitale e poi spacciati in città. E poi un'indagine della Confcommercio conferma le paure sulla sicurezza degli esercenti. E poi si schianta con l'auto alla rotatoria. Un emmalore, stronca Tonino Padovani, storico esponente dei socialisti, fu assessore della provincia. Tanti i messaggi di Cordoglio. E sottanelli, benedice, la banca Gran Sasso, la BCC del Vomano avrebbe avuto i numeri per andare avanti da sola, ma vogliamo creare un istituto più forte, ha detto il deputato di Scelta Civica. Andiamo avanti. Siamo alla seconda pagina della cronaca dell'Aquila, ponte sulla Mausonia in tempi rapidi. Pietrucci, il progetto sarà messo a punto dall'ANAS a gennaio. D'Alfonso dice, strenuamente impegnati, dice il governatore, a reperire i fondi entro il 2016. Allo studio c'è anche una nuova uscita autostradale sulla A24 nella zona industriale all'altezza di Genzano di Sassa. E poi il convegno, presentato un dossier d'Italia Nostra, con la pietra Spar a zero. La ricostruzione è un'occasione persa. Andiamo avanti. Cronaca di Avezzano sul Mona, auto blu a giudizio di Pangrazio. L'accusa per il sindaco, due dirigenti e due autisti e di aver utilizzato i mezzi della provincia per fini personali. L'autista Ercole Bianchini ha patteggiato la condanna a due anni di reclusione, pena sospesa. Poi a Pacentro, casa di riposo a Cercone, il giudice ordina di sgomberare i 26 anziani. Andiamo ancora avanti. Siamo alle pagine della cronaca di Pescara. Un tesoretto per pagare le imprese. Sollievo del sindaco Alessandrini per l'ok della Corte dei Conti al piano di riequilibrio finanziario. 7 milioni per saldare le ditte. Tornano ai capitoli di partenza. 11,7 milioni vincolati e utilizzati per spese correnti. Altri 8 per debiti fuori bilancio. Ieri vi avevamo fatto vedere il servizio con l'intervista al sindaco proprio su questo pronunciamento positivo della Corte dei Conti. Luminari è dal 29. La città accende in Natale insieme a Confcommercio e Trenitalia. E poi l'importante iniziativa tra amministrazione comunale di Pescara e Carcere San Donato. Tre detenuti infatti saranno impiegati a Palazzo di Città. Rieducare è il vero senso della pena. E poi lavoro alle donne contro le violenze. Sempre più vittime si rivolgono al centro Ananche. Marinella Sclocco, l'assessore regionale, dice serve indipendenza economica. E la Camera di Commercio dice anche che si moltiplicano le imprese in rosa. E questa è sicuramente una buona notizia. Fondi all'alberghiero o studenti in rivolta la regione ad un bivio di Marco, presidente della provincia. Prende impegni per finanziamenti e lavori, ma si attende che D'Alfonso firmi oggi la delibera di giunta. E poi Casa Cirillo non deve sparire l'appello di Italia Nostra al Comune. Vedete questo fabbricato datato di Pescara. C'è l'appello di Italia Nostra. E poi 30 ore per la vita. Lorella Cuccarini inaugura la palestra. E siamo ancora alla cronaca di Pescara e dell'area metropolitana. Caccia alla banda della Mercedes. L'autista albanese non era solo, dicono i carabinieri, l'ipotesi. I complici lasciati per colpire diversi obiettivi. Ricorderete la vicenda di due giorni fa con l'albanese arrestato dopo un lungo inseguimento per le strade di Montesilvano. Nessun mobbing sul vigile urbano. Assolto l'ex sindaco di Nocciano. La sentenza. Stessa decisione del giudice per il vice due assessori e il segretario comunale di allora. Chirurgia pediatrica, sala operatoria grazie all'Ada Manes Foundation. Abbiamo visto il servizio. E poi interrogazione del deputato di Sel Melilla sul futuro della Brioni. Siamo alla pagina di Chieti. Del messaggero anche confartigianato tra i beffati class action per i bond carichieti. Dunque c'è questa iniziativa. Poi solidarietà Acli. 70 anni festeggiati in sobrietà con il presidente nazionale Bottalico. E poi il corteo. No alla violenza sulle donne. Il corteo degli studenti di Chieti. E poi i ladri scatenati nei piccoli comuni. Prosegue l'ondata di furti anche in provincia di Chieti. Lanciano vasto Ortona. Il Natale diverso della Pingilton e della Denso. Un mese di stop nell'azienda produttrice di vetri per auto che fa ricorso alla solidarietà. Ma il 2016 promette bene. Pausa solo di una decina di giorni per i mille dipendenti dello stabilimento di motori. Con straordinari. In vista ad Ortona. più soldi alla mensa. Ci sono delle polemiche. A Lanciano. Lina Sastri apre lunedì la stagione della prosa. Siamo alle pagine di Teramo e Teramo e provincia. Sicurezza. 21 telecamere vigileranno sul centro storico di Teramo. Branca d'oro. Segnali di ripresa sulla costa. Lo dice il presidente della Tercas. E poi il verdetto. Anziana Morini abbandono. Due condanne ed una assoluzione. Poi la vicenda della donna scomparsa lunedì. Tiziana esce di casa e non torna. Scattano le ricerche. Siamo a Giulianova. 90 multe in una mattinata. Un record per le vetture trovate in sosta vietata. Ignorati i cartelli di divieto per lo spazzamento urbano. E poi si rimarca. Il comandante regionale dell'arma dice. La caserma resta a Giulianova. E poi ospedale. Siamo ad Atri. Riparte la battaglia per salvare il punto nascite. E poi si continua ad indagare per la morte di Giulia Tortoreto. Abbiamo visto anche un articolo dal quotidiano. Il centro. Siamo arrivati allo sport. Ma dobbiamo andare a leggere insieme anche le pagine del quotidiano. La città di Teramo. Poi parleremo, come detto, di sport tra qualche istante. Ovviamente ci sarà da vedere quello che si dice proprio per quanto concerne le partite del weekend nei campionati di Serie B, Lega Pro e Serie D. Siamo comunque alla città di Teramo. La prima pagina che ha come titolo principale la scomparsa da casa da due giorni della bancaria di 54 anni. Il marito lancia l'appello. Aiutatemi a trovarla. Andiamo avanti. Vediamo le pagine interne. Abruzzo, Antiquario, Teramano nel giro di arte rubate. I carabinieri recuperano 241 opere d'arte. Tra gli oggetti più preziosi. Due tele di Pacecco, De Rosa, sparite nel 1998. Poi carceri. Elezione del garante. Anche i detenuti vogliono Rita Bernardini. Andiamo avanti. Tancredi apre le braccia a Venturoni dopo l'assoluzione di Rifiutopoli. NCD è pronta ad accogliere l'ex assessore regionale. Andiamo avanti. Abruzzo Civico divorzia da Scelta Civica. La svolta dopo Mario Monti. Oggi l'assemblea per cambiare lo statuto ed aumentare il direttivo del partito. Abbiamo visto il servizio nella prima parte della nostra rassegna stampa. E poi ecco la vicenda della madre di famiglia scomparsa nel nulla. Tiziana Balducci, 54enne, impiegata di banca, si è allontanata da casa con la sua lancia YPSON lunedì sera. Dopo il lavoro, mobilitate le forze dell'ordine, anche i familiari, con l'appello su Facebook del marito. Università di Teramo riscrive le regole della clonazione. Cellule travestite da spermatozoi per fecondare gli embrioni. La ricerca promette di aiutare le specie a rischio estinzione. Andiamo avanti. Anziana morta distenti, condannati i figli e poi piano neve. Da quest'anno spazzaneve controllati tramite GPS. Questa notizia che arriva da Teramo. Ovviamente il maltempo e vedete il titolo. Oggi allerta meteo. Previste nevicate sull'autostrada dei parchi. Siamo alla pagina della provincia. C'è ancora mianto al Parco Nazionale Isola del Gran Sasso. Degrado lungo la strada che porta alle rovine della chiesa di San Valentino. A Cermignano alta tensione della Terna, qui passa troppo vicino alle case. Ci sono ancora polemiche. E poi agricoltori. Primo baluardo difensivo contro il dissesto del territorio. Siamo a Castellalto. Abbiamo conciliato ambiente e industria. Il sindaco Vincenzo Di Marco fa il bilancio dei cinque anni di governo. Poi cronaca. Martinsicuro intercettano gli assegni e poi l'incassano denunciati per ricettazione. a Sant'Egidio. Questa cerimonia particolare, questa iniziativa particolare. Sant'Egidio elegge Miss Gallina e Mister Gallo. Giulianova. La nuova caserma non è più una priorità. Il comandante regionale dell'arma Michele Sirimarco dice restiamo qui. Non ci trasferiremo a Roseto. E poi chiusura del punto nascita di Atris. Allarga la fronda anti D'Alfonso. Anche Mariani e Pietrucci chiedono di applicare il nuovo decreto ministeriale. e poi anche Pavone sposa l'idea del nuovo teatro. Siamo in questo caso a Roseto. Economia debutto in corsa per la direttiva BRRD. Siamo alle pagine dello sport. Torniamo al centro per andare a vedere di cosa si parla nelle pagine dello sport. Siamo alla pagina della serie B. Fornasier sicuro. Il Pescara è più forte dello scorso anno. Il difensore dice l'intesa tra me e Zuperic. Sta crescendo. Qualche problema all'inizio ma ora sto carburando. abbiamo ascoltato anche noi il difensore del Pescara. Andiamo ad ascoltare cosa ci ha detto. Michele Fornasier grande entusiasmo a Pescara dopo anche l'ultima vittoria di campionato. Si pensa già alla gara di Cesena ma questi tifosi sognano occhi aperti. Certo come lo facciamo noi perché sappiamo di essere una bella squadra e abbiamo tutte le possibilità per far bene. Adesso dobbiamo come detto te pensare subito a Cesena e già ci stiamo lavorando questa settimana e andremo lì più convinti di prima. La difesa è un po' sempre sotto l'occhio critico dei tifosi ma anche degli addetti ai lavori. Fornasier come vive il fatto di essere il vice campagnaro o comunque di essere almeno nelle gerarchie oggi il terzo difensore centrale? Una cosa che ti crea problemi oppure tu vai avanti per la tua strada? Io vado avanti per la mia strada. Sono convinto di quello che so fare e ho le mie certezze e quindi ogni volta vado in campo cerco di dare il massimo. Poi il resto verrà. Nelle ultime settimane qualche critica l'avevi ricevuta dopo qualche prestazione non eccelsa soprattutto dopo l'espulsione nella gara con la Ternana. Come hai vissuto quei giorni? Come tutti gli altri. È il calcio, ci sta. Normale faccio il difensore e ogni tanto ci stanno anche i rossi purtroppo. Difesa siete un po' contati considerando che campagnarono sta benissimo. Bunozza è reduce da un infortunio complicato. Il fatto di essere in pochi vi fa stare in qualche occasione poco tranquilli? No, noi sappiamo quelli che siamo e ognuno dà il 100% per la squadra e per se stesso. Quindi chiunque va in campo non abbiamo problemi. Chiunque sia sappiamo che farà quello che deve fare. Per te questa può essere la stagione della definitiva consagrazione? Io lavoro per quello. Poi come ti ho detto prima i risultati verranno da sé. Io sono convinto di quello che faccio ogni giorno in allenamento in campo e poi il resto verrà. Qual è l'obiettivo di questo Pescara? Dove volete arrivare? Si parla tanto di playoff ma in questo momento avete un obiettivo preciso? Questo momento è vincere a Cesena e dopo Cesena sarà vincere quella dopo. Quindi io guardo partita per partita. A proposito della gara di Cesena parla l'ex Biancazzurro Cascione. Dice Ragusa e Lapadula spostano gli equilibri. Il centrocampista del Cesena a fine carriera potrei stabilirmi a Pescara. Lì ho lasciato il cuore. Tanti ex giocatori del Pescara a fine carriera sono tornati a vivere, sono andati a vivere nella città adriatica. Fiorillo è out. Almanuzzi tornerà in Portaresti dunque non ce la fa Vincenzo Fiorillo. Parliamo del Lanciano. Dopo quattro anni Casadei conquista la Virtus. Sei gare in rosso-nero fino a giugno scorso altrettante in questo campionato in cui ha soffiato il posto ad aridità. E poi la Lega Pro. Il Teramo scommette sul futuro di Petrella. Lega Pro contratto allungato fino al 2018 all'attaccante di Pratola Peligna. Il difensore Dorazio dice la squadra non merita di stare così in basso in classifica. Abbiamo ascoltato anche il difensore bianco-rosso. Vediamo. Il momento non è facile però noi pensiamo a lavorare e noi dobbiamo pensare solo a questo lavorare e a migliorarci settimana per settimana. Sicuramente abbiamo qualche difficoltà e appunto lavoreremo per migliorare. Speriamo che i risultati vengano presto perché questa squadra in quella posizione di classifica non merita di stare lì in quella posizione di classifica. Dobbiamo guardare la classifica perché ad oggi siamo terzultimi e non dobbiamo pensare a se ci avessero ridato i punti o se non ci fossero i punti di penalizzazione perché così sbagliamo a pensarla così. Noi dobbiamo guardare la classifica e pensare che siamo lì e dobbiamo pensare prima di tutto a salvarci che è questo prima di tutto il nostro obiettivo. Per quanto riguarda il discorso questa squadra io conosco i miei compagni e so che per il valore che hanno possiamo fare veramente molto di più di quello che stiamo facendo e sicuramente ci alleneremo per dimostrare il nostro valore per portare a casa il risultato migliore. Non è stato un inizio facile per me parlo personalmente ma non per il fatto dell'ambiente che non mi fossi ambientato per quant'altro proprio a livello personale fisico e mentale però piano piano sto ritrovando la sto cercando di trovare la condizione migliore e spero di tornare a fare grandi prestazioni come l'anno scorso. Parliamo di Serie D, il Chieti è in crisi e viene eliminato, Ronci dice, il tecnico non voglio essere un peso, 5 a 3 per il Serpentera che passa il turno di Coppa Italia, eccellenza anche qui Coppa Italia, semifinali di andata, Bastese-Sansalvo 0 a 3, Pineto-Angolana 2 a 1 e poi chiudiamo con l'ultima pagina dello sport del centro, Acqua e Sapone, Pescara grande derby in programma domani sera, i tecnici anticipano questa sfida, vediamo anche le pagine dello sport del messaggero, Pescara, Cesena test chiave, dice il difensore Fornasieri che abbiamo ascoltato, Teramo con il Siena serve una scossa, l'Aquila nel Mirino, c'è Dos Santos e poi la Virtus Lanciano, la ricetta di Pavogol, Virtus segui D'Aversa, l'ex attaccante del Lanciano che ora fa sognare i tifosi del Genoa, è nel Mirino del Citticonte, dice so del momento complicato ma per uscire dal tunnel si lavora di gruppo, Acqua e Sapone Pescara e derby ad alta tensione, c'è questa intervista poi a Ian Nascoli, patron della formazione pescaresi, io non vado e neppure i tifosi e poi la Serie D, Chieti, altra figuraccia e fuori anche dalla Coppa Italia, torniamo, anzi andiamo alle pagine dello sport del quotidiano La Città, in questo caso attenzione focalizzata ovviamente sul Teramo, ancora qualche secondo e vedremo la pagina dello sport La Città, eccola qui, Dorazio, non meritiamo questa classifica Dorazio che abbiamo ascoltato pochi istanti fa, poi Campi all'Overtime, Giulianova ancora KO in Serie C Silver di basket, si è chiuso il girone di andata con il basket Teramo al secondo posto dietro a Termoli. Un'ultima notizia che andiamo a ripescare dal quotidiano il centro che riguarda la Serie B, dunque facciamo un passo indietro perché è saltata un'altra panchina nel campionato cadetto, ecco qui il titolo, cambio di allenatore a sorpresa, il Livorno scarica Panucci e ripesca Bortolo Mutti. Dunque dopo Ascoli, Como, Latina, Provercelli, Spezia e Ternana, anche il Livorno, cambia allenatore. E noi siamo giunti al termine dell'edizione odierna di Mattino 6, grazie come sempre per averci seguito, vi ricordo in chiusura il prossimo appuntamento con l'informazione su TV6 alle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.